Ancora una rapina nell'area frentana, questa volta ha preso di mira l'ufficio postale di San Vito Marina con un colpo che ha fruttato 20.000 euro. L'azione è stata studiata nei minimi dettagli. Due malviventi, travestiti da imbianchini per non destare sospetti, prima dell'apertura della filiale delle poste hanno forzato la porta del locale Caldaia e successivamente sfondato il solaio superiore, accedendo ai servizi igienici. Una volta dentro la banca hanno atteso l'arrivo del direttore dei dipendenti affinché disattivassero l'allarme. Attorno alle 8 all'apertura della posta sono usciti dal bagno e coltelli alla mano hanno minacciato e costretto il direttore ad aprire la cassaforte a tempo. Preso il contante lo hanno legato e sono poi fuggiti portando via i soldi. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di San Vito e quelli della compagnia di Ortona.